ciao ragazze benvenuti sul mio canale ho fatto un acquisto su royal stone sono molto contenta di questo sito e ho trovato tante cose belle e vi faccio vedere cosa ho preso allora intanto mi hanno mandato tre regalini che sono queste gocce incastronate sono molto belle poi mi hanno mandato questa catena anche questa è molto bella molto bello anche questo cordoncino adesso vi faccio vedere cosa invece ho preso io questo cordoncino questo altro cordoncino questo altro questo piatto con l'uncino questo è molto bello ci farò dei braccialetti poi ho preso queste perline fatto così molto bene anche questo questo è il codice una piattina gialla per la sua tascia e ho preso queste goccine qui e le ho presi in tanti colori giallo fucsia azzurri arancioni nere viola turchese verde 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 scuro e poi rosa morosa tico rosa un pesca rosa pesca ok di quella queste questo grigio questo questi marroni matt e poi ho preso questo cavuscio giallo molto bello questo è il codice non ho messo loro proprio da queste bocce fatte così questo è il codice di capuchon turchesi questo codice ho preso delle altre goccine piccole come quelle di prima sono più piccole cose così queste rosa verdi viola un altro rosa poi ho preso delle perde poi ho preso anche il capicorda poi ho preso anche il capicorda ho preso queste qui che sono piatti praticamente questi mini capuchon sono un po' più piccolini piccolini queste perline tonde questo codice questo codice questo codice questo codice poi ho preso un altro cabuscio fatto così molto carino altre gocce così non troppiamo in una tomba fatta così poi ho preso questi filigrani molto carina altri cambio infatti a goccia cabochon quadrati sono piccoli altre gocce così e così ho preso queste voce sul viola molto bella anche queste queste voce qui bene anche questo molto ho preso super 2 ho preso queste queste metalli ho preso questi due perline molto carine poi ho preso nero kyle ho preso le 15 in questi colori verdi e rosa sono arancione rosa poi ho preso le 11 le 11 ho preso rosa solo rosa si sono rosa poi ho preso le 8 08 in argento che non perdono colore oro e blu poi ho preso questi altri cabochon rettangolari questi altri cabochon fatti così molto carine anche queste questa filigrana molto bello in argento queste qua incastonati queste qua incastonati molto carine e poi cosa ho detto catenelle le catene faccio vedere ho preso questa a questi i miei colori sul verde e azzurro ho preso questo oro con il rosa questo oro con il rosa molto bello anche questa poi andiamo quasi finita le ultime due cose e poi ho finito purtroppo sicuramente comprerò ancora quest'altra qui sul viola e rosa e trasparente e in più questo qui sul nero nero c'è il rosa il viola molto bello anche questo basta ho finito con i miei acquisti spero che il video vi sia piaciuto sia così mettete un like e non si è ancora iscritto che si iscriva al mio canale e ci vediamo per un nuovo video a presto ciao ciao ciao